Franco Ferrarotti È un'emozione intanto incontrarla qui, in questa splendida biblioteca Poi perché è raro avere davanti un numero uno Quanto meno il primo vero sociologo italiano Non mi faccia arrossire Sì, la prima cattedra Ma non veniva, veniva da lontano Questo era nel 59-60 Fin dal 1951 Insieme con un amico fraterno, ma un grande professore Nicola Abagnano Che a me, giovanotto, diciamo un po' scapestrato E anche così sfrontato Sembrava naturale che mi facesse da vice direttore Ma dal 1951 uscivano i quaderni di sociologia Lei non è mai stato legato a dei confini stabiliti? No, proprio perché Io sono nato in campagna E ho avuto la grande fortuna di amici straordinari Ne posso citare qualcuno se lei me lo permette Cesare Pavese per cominciare Lui più avanti di me Felice Balbo E poi Il grande Olivetti Nicola Abagnano E subito, nel frattempo Perché io poi avevo questo gusto di giocare su più tavoli Adriano Olivetti Questi straordinari incontri Purtroppo le dirò, se posso Che La longevità Forse contrariamente a ciò che ci dice la Bibbia Me ne scuso Però La longevità non è necessariamente un dono di Dio Perché? Perché gli amici sono tutti morti Però è rimasto il grande ricordo Sì, ma in più c'è anche il fatto che Si trattava di amici E ho sempre avuto questa tendenza Molto più anziani di me Di almeno una generazione 20, 30, 40 anni E allora evidentemente oggi Oggi mi restano i ricordi L'insegnamento La domanda Che cosa avrebbe detto In questa situazione Per esempio Abagnano Olivetti Anche la sua vita all'inizio All'inizio, diciamo È già particolare Perché lei viene da un territorio doppio Un territorio di collina Ma al tempo stesso anche pieno d'acqua Le risaie Questo è bellissimo Sì, io sono Un uomo doppio Proprio Un uomo di montagna E un uomo di pianura Le risaie Poi in mezzo il po Placido Tranquillo Non sempre E dall'altra parte Le scabre verticali Colline del Monferrato Dove ci sono le miniere del cemento Non molto lontane Più basse Più tranquille Delle colline delle langhe Da cui veniva Il mio caro amico Pavese Lei dà l'idea della concretezza Ma anche nella sua materia L'ha sempre fatto Nel senso che Una sociologia Rinchiusa soltanto in un'aula Lei non la capisce Anche se Magari le aule come questa Sono paradisi È vero E questo è tipico Della sociologia E non sempre I sociologi Di oggi Lo possono capire Non lo capivano I miei primi colleghi Io ero Non un barone Un baronetto Cioè Ero il più giovane Ordinario Della facoltà Di lettere e filosofia A Roma Alla sapienza Che allora non si chiamava Ancora sapienza Bene Bene La sociologia Non la si può insegnare Solo dalla cattedra Bisogna andare sul campo Sul terreno In qualche modo La sociologia È una scienza ibrida Ma già nel nome Il nome è Metà latino Metà greco Sociologia Socius E logos Straordinario E questa sua qualità Viene dimenticata E allora cosa Cosa succede Succede che Quelqu'è successo Che sta succedendo Una grande materia Può essere vittima Del suo grande successo Che diventa di moda Diventa di moda Diventa anche Perde l'aura Perde la capacità Di ascolto Della società In cui è nata È una scienza sociale In particolare La sociologia Se non riesce A captare Ad ascoltare Anche le domande Implicite Che spesso La società Non ci dà Domande chiare Non riesce Ma Il vero L'autentico Sociologo Unendo teoria E ricerca Pensiero Concettuale Concetti E prassi In qualche modo Dovrebbe riuscire Come un buon medico Medici di una volta Non quello che ti manda Dal laboratorio A fare le analisi No Quelli che vengono a letto Che ti palpeggia Che ti palpeggia La sociologia Palpeggiando la società Dovrebbe riuscire a capire Di che cosa Ha bisogno E lei negli anni 60 Stava fisicamente Sotto gli archi Degli acquedotti romani A guardare E cercare i poveri Che stavano negli acquedotti Prima dei cesari Poi dei papi L'acquedotto felice Tutto cambiato adesso Ma all'epoca I grandi archi Della classicità romana Della latinità Erano in fondo I tetti provvisori Di povere baracche Di persone però Del centro sud Italiane spesso Sì Oggi è cambiato Ci sono Non forse lì Immigrati Che vengono da fuori Immigrati Cos'è cambiato Di quella povertà Eh beh È cambiato molto Intanto Era quella Era una povertà Che si accettava Come tale Oggi invece È una povertà Nuova È la povertà Di ceti Medi o bassi Che si vergognano Della propria povertà E in qualche modo È una povertà Rabbiosa È una povertà Che non si accetta Giustamente E d'altra parte C'è anche Una incapacità Di tenere il passo Con un cambiamento Così rapido Il grande problema Di oggi È questa contraddizione Una tecnica Rapida Un'innovazione Tecnologica A portata Planetaria E gruppi Dirigenti Governanti Ma anche Influenzanti Non solo I ministri Ma anche I professori I sacerdoti Che non Tengano il passo Si chiudono Nei loro Orticelli Questa è la Grande contraddizione Nel nostro tempo Ed è una contraddizione A cui dovrebbe Porre il medio L'analisi Sociologica Orientata Purtroppo Che cos'è L'analisi Sociologica La scienza Sociale E noi abbiamo Uno dei primi Errori Forse ancora oggi Piuttosto Dominante È che Il sociologo Vuole Imitare Soffre di un complesso Di inferiorità Verso le scienze Dure Le scienze Esatte E si sente Come qualcuno Aveva detto Anni fa La sociologia Si sente un po' Una inferma Scienza Ma tutte le scienze Devono essere Inferme Per non diventare Dogmi E tradire Se stesse Come scienze La scienza Deve essere Per definizione Un procedimento Che continuamente Si autocorregge In ascolto Della storia E poi c'è un altro punto Le scienze Si Si distinguono A seconda Del loro oggetto Ma L'oggetto Della sociologia Me lo consenta Non è un oggetto È una persona È un soggetto È un soggetto E ogni ricerca Sociologica Sul terreno Non solo sui libri Ma sul campo È una Con ricerca E ogni ricercatore Non può erigersi Mettersi in cattola Come un pubblico ministero Ogni ricercatore E anche lui Lui stesso È un ricercato È un ricercato Perché c'è un circolo Ermeneutico Per cui Per far parlare Il ricercato Il ricercatore Deve riuscire a stabilire Un rapporto Di fiducia Per cui la ricerca Diventa un rapporto Di reciprocità Che rapporto ha avuto Franco Ferrarotti Con i libri Beh I libri Per me i libri Me lo consenta Sai Io ero un ragazzo Di campagna Dopo le classi elementari Meravigliose Tre più due Privatista Io mi sono presentato Alla licenza ginnasiale Dopo i quattro anni Cinque anni Privatista Poi due anni Allora era possibile C'era la guerra Il triennio Da privatista Autodidale I libri Sono stati I miei compagni Amici Di infanzia E di prima adolescenza In seguito Io ai libri Devo tutto Con i libri E oggi Oggi sono Qualche volta Rammaricato E anche Profondamente Rattristato Perché vedo Vedo che il libro Non è più L'unico grande strumento Della comunicazione Culturale Il libro Ormai Sta per essere Sconfitto Spero di no Spero di no Speriamo Ma il libro La logica del libro Della lettura Sta per essere sconfitta Della logica Dell'audiovisivo Immagine contro la parola Niente da dire Contro l'immagine Ma se la faccio da me In base alle parole Se io naturalmente In base a una parola Mi costruisco l'immagine Ma se l'immagine Mi viene offerta Da chi Non lo so neppure Precostituita Preconcetta Che cos'è Non è più cibo per l'anima È un precotto Non è un vero cibo Lei parlando Dei giorni nostri Fa un Da un'immagine Molto bella Dell'Italia Dell'Europa Del Mediterraneo La racconta Come una grande insalatiera Dentro cui troviamo Varie insalate Varie erbe Ognuna differente Però soltanto Nell'insieme Si dà il gusto Il mar Mediterraneo Intanto Stiamo attenti Ai nomi Il mare In mezzo alle terre E poi non è neppure Un mare È un lago È un lago Ora si dice Ed è giusto Lo si vede dai giornali A televisione Tutti La storia ha cambiato alloggio La storia addirittura Non è neppure alloggiata Nell'oceano Atlantico Ormai batte Il lontano Oceano Pacifico È un momento La grande elezione del Mediterraneo È tuttora più valida che mai Perché nei grandi movimenti di popolazioni Cosa vuol dire Di culture Di religioni Di credenze Il Mediterraneo Ci insegna ancora una volta Che occorre È fondamentale L'incontro L'interscambio Fra le culture Il dialogo interreligioso Interculturale Semplice Oggi Il Mediterraneo Si dice Dialogare Operire Non c'è Non è più Una questione Adesso vogliamo dialogare Siamo obbligati La sopravvivenza Dell'umanità In un'epoca Soprattutto Nucleare Quando sarà finita La pandemia E torneremo A quella che si dice La normalità Dovrà essere Una normalità Di tipo nuovo Con una nuova Consapevolezza E dovremmo essere Tutti pontefici Cioè Creatori di ponte Mentre oggi Oggi Come lei sa Purtroppo Sovrabbondano I costruttori Di muri Di separazioni La guerra Delle tariffe Dei dazi No Occorre che l'Europa Non venga meno La forza dell'Europa È la forza Delle differenze È l'insalatiera Ogni filo d'erba Necessario E in qualche modo Fedele a se stesso Ma In collaborazione Con il giro Perché? Ma perché Nessuno si salva Da solo Questa è la grande lezione Anche per Questa pandemia Ce lo dice Vaccine Ci sono Dei beni Comuni Occorre Riscoprire La fondamentale Unitarietà Della famiglia Umana Questo noi lo stiamo Sperimentando E forse in questo Addirittura Può darsi che io Naturalmente Mi sbagli Ma addirittura Ci fa capire meglio Il concetto stesso Di società Noi diciamo società Italiana Francesca Deseca Americana Abbiamo una delimitazione Le carte geografiche Abbiamo le dogane Le frontiere Le passiamo Ma Nella parola Di società Insita Dentro questa parola Proprio impiantata In questa parola C'è una promessa Di eguaglianza Di essere tutti soci Di insemità Una promessa Che è stata Storicamente tradita E che noi Proprio in base Alle sofferenze Di questi giorni Potremmo forse Forse Riscoprire E rivalutare Franco Ferrarotti Grazie Sono io Che la ringrazio Grazie